Ieri sera mi sono guardato la partita di Champions tra Inter e Atletico di Madrid e quando Turam si fa male ed è costretto ad uscire ed entra Arnautovic al suo posto e Arnautovic inizia a sbagliare dei gol abbastanza facili, mi sono rivisto in lui. Ho pensato, cavolo, se sbaglia Arnautovic in Champions con la maglia dell'Inter posso sbagliare anche io. Poi Arnautovic fa gol e il mio pensiero diventa soltanto un ok io invece il gol non lo faccio mai però ho fatto anche una sorta di parallelismo con quella che è stata la partita appunto con l'Inter, appunto a San Siro tra Juventus e Inter perché abbiamo parlato tanto di Vlaovic e di quello stop sbagliato e abbiamo detto chiaramente che quello è un errore tecnico di Vlaovic però anche Arnautovic ha avuto tanti errori tecnici, anche errori abbastanza banali dei tiri che sono stati sparati da buone posizioni però poi ha avuto l'occasione di rifarsi, ecco io credo che la differenza stia tutta lì e il fatto che se hai un'occasione e la sbagli diventa 100% di errori il fatto che se magari hai 5 occasioni e ne sbagli 4 e una la fai diventi anche magari il match winner di una serata di Champions che entra al posto di uno dei giocatori più propositivi e positivi di questa annata interista e devo dirvi la verità, da tifoso della Juventus un po' mi preoccupa quest'Inter per la Champions perché va bene essere sportivi e riconoscere all'Inter dei meriti ma pensare che l'Inter possa vincere la Champions è una cosa che onestamente mi dà fastidio e non voglio nascondermi dietro all'ipocrisia, vi dico esattamente quello che penso vedremo cosa succederà, io ieri c'ero visto un Inter superiore all'Atletico Madrid senza ombra di dubbio, un gol a 0 e ancora troppo poco per decretare il passaggio del turno anche se ne avevamo parlato anche alla Bobo TV, ci aspettavamo un risultato simile perché sia Inter che Atletico avevano delle statistiche difensive mostruose davvero mostruose, quindi l'1-0 dell'Inter è un risultato che io sinceramente avevo messo in previsione ora vediamo al ritorno, sappiamo che l'Atletico al ritorno in Champions è sempre un po' pazzo tra andate e ritorno ci sono delle differenze, basti pensare al 2-0 dell'Atletico a Madrid contro Juve e il 3-0 della Juventus al ritorno firmato dalla tripletta di Cristiano Ronaldo bei tempi andati, davvero distanti nel tempo, ora dobbiamo invece concentrarci su quella che è l'attualità della Juventus, che è qualcosa di decisamente differente e ci sono due cose secondo me, macro temi da analizzare in questa giornata e sono legati ovviamente alla Juventus e alla allenatore della Juventus ma non tanto per i discorsi tecnico-tattici che abbiamo già fatto mille volte sono due chiacchierate un pochino più leggere che voglio portare alla vostra attenzione la prima, ieri vi ho messo una foto su tutti i social, non l'avete presa molto bene vi ho detto questa foto puzza di 2028, ve la metto qui in sovraimpressione qualcuno mi ha detto no, non è che puzza, è che profuma di 2028 qualcun altro invece ha confermato questo odore diciamo che se l'odore è lo stesso degli ultimi due anni sicuramente non è profumo se l'odore invece è quello dell'Allegri 1.0 sicuramente stiamo respirando un'aria differente ora io l'ho buttata lì come gioco però vedere Allegri contento insieme al presidente della Juventus a brindare un nuovo traguardo mi fa pensare che comunque i rapporti possono essere davvero ottimi, davvero elevatissimi tra i due la domanda delle domande che mi avete fatto in tanti ma di quando è questa foto? se di oggi, perché si sono trovati a festeggiare? perché ieri al J Museum è andata in scena quella che è la celebrazione delle panchine di Massimiliano Allegri perché in occasione della sfida dell'ultima partita che la Juventus ha giocato con l'Ella Sverone Massimiliano Allegri ha superato Marcello Lippi nella classifica all time di panchine bianconere e in questo momento è al secondo posto alle spalle di un sembra irraggiungibile tra pattoni ma poi vedremo se davvero ci sarà una conferma di Allegri in panchina ed eventualmente anche un rinnovo perché io credo che con un anno è basta Allegri non inizierà la stagione l'anno prossimo quindi o rinnovano Allegri o esonerano Allegri ecco questa è la mia estrema sintesi non penso che Allegri possa iniziare con un anno in scadenza e allora ieri c'è stata questa celebrazione da parte di tutta la dirigenza della Juventus il presidente Giuntoli, si è visto anche Cherubini e tutto lo staff di Allegri Allegri è ringraziato ovviamente ha sottolineato che le panchine portano il suo nome ma ovviamente c'è tutto lo staff che ha sempre lavorato con lui alle spalle che ha permesso di raggiungere questo numero qua e ha detto che la squadra in questo momento è concentrata verso noi traguardi di raggiungere in Serie A e in Coppa Italia non lo so, qualcuno l'ha letta come me e cioè prove di capire se si può andare avanti insieme oppure no perché ovviamente è giusto celebrare il fatto che si raggiunga un obiettivo del genere io avrei aspettato perché comunque quel numero di panchine è destinato a crescere nel corso di questa stagione e secondo me in questo momento qui della Juventus c'è poco da festeggiare perché la squadra non sta andando per niente bene per niente bene quindi avrei evitato un ulteriore calo di concentrazione perché domenica giochiamo con il Frosinone una partita che mi sembra abbastanza decisiva per capire quella che sarà la struttura della Juventus nei prossimi mesi perché ragazzi è la terza o quarta volta che ci troviamo qui a dire che la Juve deve vincere la prossima partita e sinceramente staccare, festeggiare in questo momento qui l'ho trovato un po' forzato ecco diciamo così si poteva giocare la partita di domenica portarsela a casa perché è necessario portarsela a casa contro un Frosinone che è in difficoltà e poi magari farlo la settimana prossima che non succedeva niente tanto il conto delle panchine ripeto da qui a fine stagione è destinato a crescere e poi vedremo per il futuro qualcun altro invece l'ha letto come una sorta di ultima celebrazione in amicizia per Allegri per far vedere che comunque i rapporti sono buoni per poi interrompere appunto questa collaborazione questo contratto lavorativo al termine della stagione facendolo passare come è stata per la prima volta che Allegri ha abbandonato la panchina della Juventus una decisione condivisa anche se in realtà si è trattato di una zona a tutti gli effetti perché Allegri ha percepito comunque lo stipendio anche nella stagione successiva ma c'è stato un clima differente con la conferenza stampa di addio tra Allegri e Agnelli dove si andava a ripercorrere tutti questi momenti insieme però ripeto poi Allegri l'anno dopo è stato a casa si è percepito lo stipendio quindi non era assolutamente una decisione condivisa è stata una decisione della società della proprietà insomma della Juventus lato lato Juventus quindi questa è la prima tematica che volevo affrontare insieme a voi e vi chiedo da quale delle due parti siete posizionati queste sono prove per il futuro per capire se c'è la possibilità di rinnovare e andare avanti insieme o secondo voi questa cosa è magari anche un discorso legato al fatto che si vuol far passare un messaggio positivo per Allegri perché comunque ha scritto tantissime pagine di storia della Juventus e ha contribuito a riempire appunto la baccheca di trofeo un po' come vedete qui alle mie spalle con tanti titoli raccolti nell'Allegri 1.0 e sperando che possa esserci almeno una Coppa Italia in questa stagione per raggiungere una baccheca che sta iniziando a prendere un po' di polvere voglio sapere la vostra qui sotto seconda battuta Stadium contro il Frosinone sold out Juventus Stadium Allianz Stadium sold out meraviglioso per me è una notizia bellissima lo sapete che quando c'è lo stadio pieno anzi per me è un peccato vedere quando ci sono dei posti vuoti l'anno scorso abbiamo sottolineato tante volte questa cosa che prima della penalizzazione perché dopo la penalizzazione il tifoso ha risposto molto bene però prima della penalizzazione abbiamo avuto tantissime volte lo stadio con dei posti vuoti ed è una cosa che a me fa impastire perché abbiamo un gioiello tra le mani l'Allianz è un gioiello è una struttura all'avanguardia incredibile per quanto riguarda l'Italia anche se ha già una decina d'anni abbondante ma chi se ne frega è ancora giovanissimo come stadio è veramente un bambino però è un gioiello e va riempito sempre a maggior ragione perché l'abbiamo fatto piccolo 40.000 posti 41.000 posti per riempirli sempre e non è sempre stato così negli ultimi anni e per me è veramente un dispiacere lo stadio è pieno e mi tocca leggere che fanno degli articoli sulla contrapposizione tra quello che è il pensiero dei tifosi relativo all'allenatore cioè la volontà di un cambio in panchina e lo stadio che è comunque pieno ma perdonatemi un secondo ma il tifoso della Juventus va allo stadio a vedere la Juventus il tifoso della Juventus non va allo stadio a vedere Allegri il tifoso della Juventus non va allo stadio a vedere Conte il tifoso della Juventus non va allo stadio a vedere Pirlo Sarri Del Neri Ranieri il tifoso della Juventus va allo stadio a vedere la Juventus cioè a me sembra di sognare di fronte a questa roba qui vi faccio un esempio con l'udinese c'erano tanti tifosi allo stadio ma a fine primo tempo il tifoso la Juventus ha fischiato la Juventus e i suoi componenti non è che va allo stadio perché è così, va a vedere l'allenatore il tifoso la Juventus è allo stadio e vederla a Juventus io non riesco a capire questa volontà di far passare il concetto che se lo stadio è pieno allora al tifoso va tutto bene, ma non è vero ma quante persone vanno allo stadio e poi si lamentano perché vedono una cosa che non gli piace ma qualsiasi tifoso ma alzi la mano chi è andato allo stadio almeno 10, 20, 30 volte in vita sua e non abbia mai, mai, mai detto però guarda questo il calciatore che fa questa roba qui ha sbagliato lo stop, l'allenatore che ha fatto il cambio che non va bene no perché qua sembra quasi che se voglia far passare un concetto che se lo stadio è pieno è perché il tifoso della Juventus va a vedere dell'allenatore e che quindi non c'è questa volontà del tifoso della Juventus di cambiare allenatore ma sono due discorsi scollegati ma sono due discorsi che non hanno un filo logico non hanno nessun punto d'incontro non ce l'hanno non riesco a capire perché vogliamo far passare questo concetto io davvero non comprendo il tifoso della Juventus se non va allo stadio non è mica solo perché la squadra perde la squadra gioca male non mi piace il giocatore non mi piace l'allenatore magari il tifoso della Juventus non va allo stadio perché costa tanto sono degli orari improponibili sono in mezzo alla settimana la domenica mezzogiorno e mezza è comodo mi è capitato un paio di mesi fa sono andato a giocare a padel con un mio amico e il suo papà e il suo papà mi ha chiesto informazioni proprio per quella partita lì perché era domenica era in pausa pranzo e si poteva fare tranquillamente di partire la mattina raggiungere Torino andare allo stadio sembra quasi che se lo stadio si riempie è perché il tifoso è contento della situazione ma se il tifoso della Juventus è contento del momento della Juventus c'è un problema se il tifoso della Juventus va allo stadio invece per sostenere la squadra e tutti quelli che sono i componenti dello staff nel momento di difficoltà è un messaggio positivo a me sembra anche paradossale mi sembra assurdo ve lo giuro mi sembra assurdo nel 2024 dovermi mettere qui a dire ragazzi ma il tifoso della Juventus va allo stadio per la squadra cioè va allo stadio per la Juventus per la Juventus non per Allegri Vlaovic Chiesa Locatelli poi è ovvio che se c'è Cristiano Ronaldo c'è anche il tifoso che magari non è proprio tifoso non segue proprio però è appassionato e curioso va a vedere questo indubbiamente ma non fate passare il messaggio che il tifoso della Juventus va allo stadio a vedere l'allenatore perché potrebbe essere Klopp Guardiola al massimo va a vedere il lavoro dell'allenatore quello che è l'output visivo ma non perché c'è Tizio Caio Sampronio però queste sono le le mie posizioni sono curioso di sapere la vostra anche in questo caso qui sotto poi vi dico che oggi pomeriggio dovrei mettermi qui su Youtube insieme a voi a fare appunto la live che non abbiamo fatto ieri che è saltata e facciamo oggi e stasera se riesco devo cercare di capire tutti gli incastri temporali mi piacerebbe fare una live reaction della partita di Champions tra Napoli e Barcellona su Twitch per un motivo e cioè ci interessa ci interessa davvero l'esito di questa partita perché se il Napoli non passa il turno con il Barcellona la Juventus poi l'anno prossimo andrà a fare il mondiale pre-club quindi noi questa sera dobbiamo metterci qua e tifare blaugrana per forza di cose la squadra Ricciavi e non la squadra del nuovo allenatore del Napoli poverino un po' mi dispiace anche per lui che è stato sballottato all'improvviso poi magari la squadra gli farà un regalo per onorare la sua prima presenza effettiva come allenatore del Napoli prima squadra fatemi sapere tutte le vostre considerazioni qui sotto sono curioso di sapere la vostra e niente ci vediamo oggi pomeriggio per la live e forse anche stasera per quell'altra eccetera eccetera eccetera